Media Goal, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Calcio serve fare gol per poter vincere le partite, quindi ogni partita cerco di fare di più di quello che mi dice il mister. Arrivo sempre davanti alla porta una volta e quella volta devo cercare di buttare dentro, se no... E l'hai buttata dentro anche di personalità perché l'hai buttata dentro con uno scavino sul servizio di tacco di Corvia, amica male? Eh, vedo Caraccio e diciamo i vecchi della squadra che fanno sempre, quindi mi è venuto in mente come fa Caraccio e ci ho provato e è andato bene. Però che se avessi sbagliato te ne avrebbero date. Sì, ne avrebbero picchiato. L'hai detto a Corvia, ecco, guarda come si fa lo scavino visto che col Genova non è riuscito bene. Vabbè, loro diciamo che sono alti livelli, quindi non mi permettere mai di dire una cosa del genere. Però ci ho visto una bella squadra e sono molto contento di come mi sta trattando il mister. Perché come mi sono fatto male l'anno scorso, che non aveva più possibilità, però il mister mi ha sempre dato la possibilità e ha sempre dato la fiducia. E voglio confermarmi proprio di essere uno che può dare tanto a questa squadra. Per questo sei andato ad abbracciarlo poi dopo il gol? Cioè, ho già detto che trovando il mister così, oltre al mister anche il secondo e il prof, diciamo lo staff, che mi stanno tutti vicini. Cioè, avendo questo problema a ginocchio, però mi dicono che non ha niente una volta che entro in campo, devo dare di tutto. Quindi, cioè, do di tutto proprio per loro. Mediagol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.